Musica Io ovviamente vi chiedo scusa per essere tornato ancora sull'argomento ragazzi Oggi è martedì e dopo un lunedì a forte tinte di bala torno ancora a parlare di Paolo Di Bala Però questo è un argomento pressoché infinito e sono sicuro che anche quando tornerà in campo il giocatore O quando parlerà il giocatore ci saranno tante cose da dire e magari cambierà pure la versione Perché rispetto a ieri e i video che abbiamo fatto ieri, le chiacchiere, i discorsi, i ragionamenti che abbiamo fatto ieri Ci sono delle novità e sono arrivate nella serata di ieri sera Ai microfoni di varie testate Maurizio Riva Bene ha spiegato quindi posizione ufficiale della Juventus Qual è stato il motivo che ha portato alla separazione tra Di Bala appunto e la società bianconera Però Riva Bene è venuto fuori con un discorso che va completamente distante da tutto quello che avevamo ipotizzato In questa giornata, nella giornata di lunedì E quindi eccoci qua, ve le riporto subito, queste sono le parole di Riva Bene Il contratto di Di Bala non è stato rinnovato L'incontro di oggi è stato amichevole, chiaro e rispettoso Da parte della Juve sarebbe stato molto molto facile fare un'offerta al ribasso Ma sarebbe stato poco rispettoso nei confronti di Paolo La decisione è stata presa Che cosa ha inciso? Le scelte di mercato di gennaio hanno sicuramente influenzato la nostra decisione Con l'arrivo di Vlaovic è cambiato assetto tecnico e progetto tattico Arriva Bene poi sottolinea come la centralità nel progetto da parte di Di Bala Non era più necessaria, ovvia e scontata Come qualche mese prima rispetto al mercato di gennaio Queste parole le potete leggere su OneFootball Vi lascio il link qui sotto in descrizione Per scaricare gratuitamente l'applicazione Che ovviamente ci aiuterà Tanto perché per dire un'altra notizia nel mercato È che sì, che lascia il Milan un altro Che lascia la Serie A a parametro a zero E poi ci prendiamo in giro tra noi tifogeria E non ci stiamo rendendo conto che stanno veramente smantellando la Serie A E stiamo perdendo fior fior di campioni O comunque i giocatori più iconici del nostro campionato Dovrebbe andare a parametro zero al Barcellona Attenzione perché anche il futuro di Di Bala potrebbe essere in Spagna Scaricate OneFootball E allora qua ragazzi Mi viene per forza di cose da seguire un ragionamento diverso Perché ieri abbiamo ipotizzato mille cose E quindi la Juventus ha fatto questa offerta Con i bonus, senza bonus Di Bala la poteva accettare Non la poteva accettare No Arriviamo a un punto oggi di conferma Da parte della Juventus Non di pinco-pallo, panco-pinco Il rumor No, no Juventus, FC, Football Club, SPA Ti dice Nell'incontro di oggi Non abbiamo nemmeno fatto l'offerta a ribasso a Paolo Perché sarebbe stato irrispettoso nei suoi confronti Ci siamo trovati Incontro amichevole Serio, preciso Ci siamo detti ciao, addio Io sinceramente ci sono rimasto molto male Molto male E attenzione Non parlo singolarmente di Paolo Di Bala Anche, ovviamente Ma molto male Perché voglio farvi ragionare su una roba A ottobre Paolo Di Bala Avrebbe potuto firmare Il contratto che Juventus Gli aveva sottoposto A patto che Avesse poi Un procuratore Organtun non era riconosciuto come tale Di Bala Ha dovuto aspettare E questo Ha portato all'arrivo di Vlaovic No, come ti dice Arriva bene Col mercato di gennaio Poi La posizione di Paolo Non era più essenziale Centrale Ed è una cosa che capisco Perché Qualche mese fa Io vi dicevo Con l'arrivo di Vlaovic È ovvio che Il rinnovo di Di Bala Non è più indispensabile Ma rimane molto Molto utile Prima dell'arrivo di Vlaovic Io ero 100% Sul rinnovo di Di Bala Con l'arrivo di Vlaovic Ho detto Adesso capisco che Si potranno fare Dei ragionamenti differenti Però da qui A non sottoporre Nemmeno il contratto Dopo che Era ritenuto Centrale nel progetto Era pronto Un contratto Di 4 o 5 A 8 milioni di euro Più 2 di bonus Che lo portavano a 10 Iconico Capitano della Juventus Perché Chiellini Sarebbe andato via Da qui a poco Quindi Da posizione centrale Nella Juve Di ottobre Il solo arrivo di Vlaovic Ha trasformato Di Bala In un giocatore Non più utile Al progetto A tal punto Da non sottoporre Nemmeno un'offerta Adesso Magari sembra follia Solo a me Ma mi sembrano Due estremi Due ragionamenti Eseguiti da persone Completamente diverse Invece abbiamo La stessa dirigenza Lo stesso allenatore Gli stessi componenti Della Juventus E da ottobre A marzo Quindi ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Sei mesi Da sei mesi Dieci milioni di euro A stagione Praticamente per quattro anni A Ciao Zero euro Ti offro A me sembra che Che ci siano degli estremi E che in mezzo Ci sia Tanta possibilità Di discutere Di dialogo E io per logica Andavo a posizionare La Lila Juventus Invece è È un taglio netto Ora Facciamo un passo indietro Devo dire che Dal punto di vista Della programmazione sportiva Questa cosa un po' Mi preoccupa Un po' Mi preoccupa Perché se la Juventus In sei mesi Con un singolo acquisto Quello di Vlaovic O due Quello di Zaccaria Ma comunque anche Delle cessioni Tra cui quella di Kuluseschi Che se Decidiamo di passare Al 4-3-3 Probabilmente Kuluseschi È uno di quelli Che ti potrebbe tornare utile Visto che Di Bala Sta uscendo Probabilmente uscirà Anche Bernardeschi Invece È ecceduto Kuluseschi È ecceduto Di Bala Praticamente Vedremo Morata A questo punto Perché lo puoi riciclare In quella posizione Però a livello di programmazione Se hai in sei mesi Da centrale Nel progetto A niente Due domande Me le faccio Perché la programmazione Si fa Sui 3-4-5 anni E lo stesso Di Bala Che rinnova Per 4 anni Era appunto Uno dei motivi Che ti poteva Far pensare Che la Juventus Ragionasse Sul costruire una Juve Su Di Bala Attenzione Ribadisco Non è un discorso Solo su Di Bala Diventa un discorso Su Di Bala Perché è successo a lui Però Capite bene che stona Poteva essere Qualsiasi calciatore Cioè tu non puoi Passarmi da Ok Tu mi diventi L'icona Della squadra Il giocatore più pagato Della squadra Ti allungo il contratto E te lo allungo Per 4 anni O forse addirittura 5 come si parlava E dopo 6 mesi Dici No guarda Non ho più bisogno di te Allora Attenzione Questa è una nuova linea Societaria Che ha adottato la Juventus E l'ha adottata Questa estate Con l'arrivo di Arriva Bene E io ricordo Di aver fatto un video Era uno dei primi video Che facevo all'interno Di questa casa Da casa nuova Ero in sala Avevo una camicia Bianca e nera Anche mi ricordo C'era la pianta dietro E gli dicevo La nuova linea Della Juventus È questa Trattenere giocatori Che sono all'interno Della Rosa Per dire Vi faccio un esempio Perin Non si sarebbe più Ascoltata la parola Di Perin Che voleva andare A giocare Al Genoa E non voleva fare Il secondo della Juve Se la Juve Ha bisogno di un secondo Portiere Si tiene Perin Se arrivano offerte Per Perin Lo vendi E al massimo Torni sul mercato Per tanti Questa è stata Una linea giusta Per me Era già sembrata Una linea particolare Ero anche rimasto Sorpreso Da vedere Che tante persone Pensavano diversamente Da me Ho detto Va bene Ci sta Come in tutte le cose Però io ragionavo Sul fatto che Se io sono Juventus E devo cercare Di massimizzare La squadra Io non è che posso Ragionare sui giocatori Che sono sì Della Juventus Presenti nella Juve Perché Acquistati In stagioni precedenti Ma magari Non più utile Il progetto tecnico Attuale E mi li devo tenere Per forza di cose L'allenatore Li deve allenare Per forza di cose Anche se in realtà Avrebbe preferito Altri profili E questa cosa Si è tradotta Con la permanenza Anche tra gli altri Di Rugani Di Desceglio Che poi Magari c'è stata Anche la conferma Da parte dell'allenatore Che gli ha sempre Allenati Li conosce Quello che volete Però capite bene Che se la Juventus Vuole andare a prendere Vi faccio un nome a caso Serginio Dest Per la fascia destra Non è che può dire Non lo prendo Perché poi C'è Desceglio Che mi blocca E allora mi tengo Desceglio Non prendo Serginio Dest Che vi ho fatto Proprio il primo nome Che è venuto in mente Come terzino destro Perché cambia Dall'obiettivo Che vuoi prendere Da quello che ti ritrovi In casa Per via di Quindi è una linea societaria Ragazzi Non ti leggerarci intorno Questa è una mancanza Di rispetto Arriva bene Ti dice Non sarebbe stato rispettoso Nei confronti di Paolo Fare un'offerta a ribasso E condivido Ma figuratevi Non fargli l'offerta Ancora più irrispettoso Per quanto mi riguarda Poi non so Come l'abbia presa Di bala Se mi parli Di un progetto In quale sono dentro Il progetto Giocatore più pagato Del progetto E poi mi dici No guarda In realtà Non ci sei neanche Nel progetto Nel giro di sei mesi Due domande Mi vengono In mente Poi Io sono tifoso Della Juventus E mi fermo lì Non ho idea Di quali siano stati I ragionamenti Che ci sono stati dietro Si saranno incontrati Un miliardo di volte Avranno tirato Le loro conclusioni Se sono arrivati A questa decisione Arriva bene Ce lo ribadisce La Juventus Prende decisioni Per il bene Della Juventus Non per il male Della Juventus Grazie a quello lì Però Però Io da tifoso Sono quantomeno Perplesso Di fronte a questa cosa qua Poi mi auguro Che la Juve Abbia preso La strada giusta Che abbia in mente Di sostituire Di Bala Questi milioni Che doveva investire Su Di Bala Non li investo Su Di Bala Ma li investo Su due profili Che vanno a migliorare Sensibilmente la Rosa Il prossimo anno Si ricomincerà a vincere Tutto Magari anche In Europa Chissà Dio Magari il Signore Però Io in questo momento Da tifoso Della Juventus Che non sa niente Di quello che è accaduto Dentro Le mura della società Dentro Agli uffici Della continassa Nella testa Dei diretti interessati O come La presa di Bala Io Dico Che sono Quanto meno Perplesso Di fronte a una programmazione Che Da sei mesi Cambia da così A così Ieri Vi ho fatto Tante ipotesi Tanti Questa Non l'ho presa in considerazione Perché è la più assurda Di tutte Ma nel momento in cui Lo stesso arriva bene Tra la confermare Mi viene da dire Non è che arriva bene E sadico E si mette in posizioni Di svantaggio Rispetto a Di Bala Vuol dire che è andata Effettivamente così Termino Dicendo Con una domanda Più che dicendo Termino con una domanda Al di là del fatto Che Di Bala Possa piacere Non piacere E ve l'ho già ribadito Questo è un ragionamento Che può essere fatto Su tutti i componenti Della squadra Non su Di Bala Cioè Cercare di capire Questa programmazione Quanto può cambiare Nel giro di pochi mesi Ma questa Juventus qui La Juventus di oggi Di quest'anno Delle ultime partite Quella che Abbiamo visto banalmente Anche l'altro giorno Con la Salerentana La Juve di oggi 2021-2022 È una squadra Che può permettersi A livello tecnico Di non fare offerte Nemmeno a ribasso Per uno come Paolo Di Bala Perché Traduco Si è detto tante volte Che uno come Di Bala Non si mette in dubbio Dal punto di vista tecnico Semmai Si mette in dubbio Dal punto di vista fisico Di condizione atletica Di presenza No? Il che significa Che tutti riconoscono A Di Bala Delle capacità Delle qualità Sopra la media Rispetto a tanti altri calciatori Lo dimostra il fatto Che è l'undicesimo Marcatore della storia Da Juventus Per dire no? Ok Allora Se il problema Sono gli infortuni Io Juventus Se ho un giocatore Così forte Faccio di tutto Per tenerlo Perché a livello Tecnico Mi è utile Però Quegli infortuni Mi vanno a condizionare Il ragionamento economico Allora vado Al ribasso Giusto? Mi sembra Una cosa lineare Giusta Logica Se tu non gli fai Nemmeno l'offerta Significa che Dal punto di vista Tecnico Non solo Tecnico Tecnico Non hai bisogno Di Paolo Di Bala E a me pare Sinceramente Che questa Juventus Non sia Nelle condizioni Di potersi permettere Di schifare Paolo Di Bala Ve lo dice uno Che Anni fa Quando Nel mercato Estivo Dell'arrivo di Sarri C'era Lo scambio Di Bala Lukaku Io non ero Per scambiarli Alla pari Perché ritenevo Di Bala Molto più costoso Di Lukaku Molto più forte Di Lukaku All'epoca Poi Lukaku Viene in Italia Finisce lo scoglietto All'Inter Succede quello che succede Di Bala Vince l'MP Tra l'altro Con la stagione lì Meno male Perché l'ultimo scoglietto Juve è regato Paolo Di Bala Senza Paolo Di Bala Probabilmente l'ultimo scoglietto Juve non lo vince Poi magari con Lukaku Sì Questo non lo sapremo mai Però dico anche Non lo farei a pari Ma se c'è la possibilità Di vendere Di Bala A 50 60 milioni Allora non mi ricordo Nemmeno di quanto si parlava E prendere Lukaku A Qualche milioni in meno O comunque Se il Manchester United Ci dà dei soldi in più Allora lo faccio Perché non ero Nella condizione di non cedere Mamma mia Assolutamente no Paolo Di Bala No Secondo me Tutti i giocatori All'interno di una rosa Possono essere ceduti Di fronte alla giusta offerta Se poi Si va a migliorare la Juventus Il problema qual è Che In quella Juve C'era Cristiano Ronaldo All'altro Secondo nel progetto Si parlava di prendere Appunto Lukaku Magari anche al posto di Gwain C'erano tanti giocatori Che È vero Erano a fine progetto Ma anche tanti giocatori Che erano Nel momento migliore Della carriera Era comunque una Juve diversa Ed era infatti una Juve Scudettata Con tutte le difficoltà del caso Ma comunque scudettata Questa non mi sembra La squadra che Può permettersi di dire Vabbè dai Tolgo Di Bala Cioè io ragionamento Lo faccio anche solo Banalmente sul reparto Fisivo della Juve Morata non è tuo E scade Ken Cioè Ken non gioca mai Mai Il che significa Che l'allenatore preferisce Di gran lunga Di Bala Al posto di Ken Di Bala appunto Bernardeschi Puro in scadenza Quadrado Puro in scadenza E anche abbastanza vecchio Vlaovic Che non si tocca Chiesa Che bisogna vedere Come torna il crociato Cajorghe Che si è spaccato Il legamento No Si è lesionato Il legamento del ginocchio Otto attaccanti L'unico che davvero dice È Vlaovic Cioè tutti gli altri Sono in discussione E allora La Juventus può Permettersi dal punto di vista Tecnico Di silurare Di Bala Offrendogli zero Per me No Ma rimane la mia posizione Da tifoso E questo ragionamento Può essere fatto E riciclato Per tutti gli altri giocatori Poi sono curioso Di sapere la vostra E sono anche curioso Di vedere se verranno fuori Altre novità Soprattutto sono curioso Di sentire le parole di Di Bala O vedere la reazione di Di Bala In campo Nella prossima giornata Tra l'altro contro l'Inter Che direi che è una partita Abbastanza importante Fatemi sapere anche un po' Le vostre opinioni Fatemi sapere Se vi crea preoccupazione Questa linea societaria Del Taglionetto Con qualsiasi giocatore Non guardo più in faccia a nessuno Che ci sta E cambiare Ci sta Però secondo me Dipende anche Dal fatto Di ragionare Me lo posso Permettere A livello tecnico Perché attenzione A me di tenere A posti i conti Ma poi Non lottare Per le prime posizioni Non è che me ne freghi Proprio tanto Se devo dirvi la verità Cioè Ci deve essere La possibilità di fare entrambi Quindi ora Mi aspetto Non dico esigo O pretendo Ma mi aspetto Da una società Come la Juventus Juventus In un campionato Che sta diventando Sempre più Mediocre Perché si sta Impoverendo Dei giocatori migliori Come quello italiano Che la Juventus Almeno a livello nazionale Possa tornare a competere E quindi Che possa fare Degli investimenti Con questi soldi Che non è andata A investire su Di Bala Però ribadisco Mi sembra Un modo di ragionare Al quanto critico Ed estremista Perché Passare da tutto A niente Vabbè Era solo un po' Per sapere Se anche voi la vedete così La vedo così solo io